Si alza il Sipario sulla 27esima edizione della Fiera del Tartufo Bianco pregiato di Pergola con un antipasto del sabato in attesa del ricco menù previsto nelle tre domeniche del 6, 13 e 20 ottobre. Si parte il 5 ottobre all'insegna di una suggestiva mostra di modellismo ferroviario e del convegno Culture di Vigna Viaggio nei Sensi sulle Orme di Mario Soldati. Poi il 6 ottobre l'apertura degli stand espositivi della Piazza del Tartufo in cui ogni domenica una diversa delegazione slow food proveniente da varie regioni d'Italia animerà gli spazi della Fiera con prodotti e saperi gastronomici. Altro protagonista della Fiera sarà il treno, non solo con la mostra di modellismo ma anche con l'arrivo alla stazione di Pergola del treno storico della subappennina italica a vapore. Un viaggio sulle rotaie della storia in programma anche il 13 e 20 ottobre. Per assaporare il gusto del tartufo si potrà pranzare nei ristoranti del centro storico e nella Piazza del Gusto Marche da Mangiare dove ci sarà spazio anche per le show cooking e degustazioni vinicole. Nelle tre domeniche di fiera i visitatori potranno poi immergersi nel gusto e nella bellezza con lo speciale pacchetto Cultura e Cucina, ovvero con una degustazione nella Piazza del Gusto e una visita al Museo dei Bronzi Dorati. Nel pomeriggio ci sarà la cerimonia di inaugurazione della fiera con la partecipazione straordinaria di sbandieratori, tamburini e chiarine del gruppo storico La Pandolfaccia. In Piazza Lopardi, previsto l'angolo del divertimento e la città dei bambini, in Piazza Fulvi la musica di Johnson Righiera in concerto con Evolution 80.